Si è trovato questo suo compagno, questo che io definisco bulletto, alle spalle che lo ha invitato a seguirlo per giocare con la neve, presumo far dispetti ad altri. Mio figlio ha eseguito l'ordine tassativo impartito da noi genitori di non averci più nulla a che fare e si è rifiutato. Al rifiuto questo ragazzino ovviamente gli ha scagliato questo blocco che io personalmente ho visto, cioè quasi di due chili e mezzo in pieno volto. Le conseguenze in ospedale sono state con una prognosi di sette giorni, con un trauma cranio-facciale, delle frattaglie che li sono finite in un occhio, quindi occhio gonfio, non riusciva ad aprirlo. A parlare in forma anonima per tutelare il figlio è il papà del 12enne, vittima di un episodio di bullismo da parte di un compagno in una scuola del Miranese. Una vicenda con i contorni da definire, su cui il padre vuole però chiarezza. Prima di questo episodio infatti i genitori del 12enne erano stati convocati perché si sarebbe reso responsabile di alcuni comportamenti poco consoni, di cui ha ammesso le responsabilità e per cui sarebbe stato necessario un provvedimento disciplinare, nello specifico svuotare i cestini delle classi, ora sospeso. Una volta a casa però il ragazzino avrebbe raccontato la sua versione. Lui si è assunto intanto le sue responsabilità, quindi se le è prese sulle cose che ha fatto lui. Sulla maggior parte delle cose che purtroppo sono successe in quella classe in particolare, purtroppo ha debitato a questo ragazzino ma solo a casa e non lo ha fatto in presenza delle insegnanti, in presenza del compagno in questo caso per paura di ritorsioni. Dall'altra parte ci sarebbe il bulletto che ha lanciato il blocco di ghiaccio, già protagonista di episodi sul generis a detta di questo papà. Secondo questo papà che nel frattempo si è recato dai carabinieri per formalizzare la querela, una volta appurata ogni singola responsabilità bisognerebbe agire di conseguenza. La pena esemplare potrebbe essere quella di prendere questo bambino, è quello che doveva fare mio figlio, farglielo fare a lui. Io non chiedo per dire i lavori forzati, sono sempre bambini, però comunque chiedo intanto innanzitutto le scuse da parte dei genitori di questo bambino che fino ad oggi, ripeto, non ho mai 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 ricevuto e mai sentito.